Musica Morti improvvise per infarto a qualunque età, c'è un legame con il covid o con i vaccini? La parola ai cardiologi. Il sesto idrogeologico, erosione coschera, la recente alluvione e conseguenze del cambiamento climatico visibili anche nelle marche. Per le rubriche TVIRS, Io Reporter scopa una discarica a cielo aperto e torna all'appuntamento con la psicologa per Ascoltami. Sportivamente basket e volley sorridono le ragazze della Megabox, nulla da fare per la VL. Ben trovati a questa edizione serale di All News, lo avete sentito dai nostri titoli. Si ripetono con inquietante frequenza le notizie di improvvise morti per infarto a qualunque età. Nelle Marche, quattro casi negli ultimi giorni hanno allarmato e ci hanno spinto ad un approfondimento con alcuni dei maggiori esperti della regione. Li ha sentiti Martina Linei. Morti improvvise causate da infarto miocardico in giovani adulti. I fatti di cronaca registrati ultimamente nel nostro territorio si legano ad una sensazione di un aumento improvviso di questi casi. È così? E l'attenzione a miocarditi che possono essere ricondotti alla malattia Covid ai vaccini è giustificata? Molta attenzione, spesso impropria, si è stata negli ultimi tempi soprattutto sulle miocarditi che possono essere legate al Covid e al vaccino. E credo che sia utile fare chiarezza su questo perché ci sono degli studi scientifici molto ben fatti. In particolar modo uno molto ampio, eseguito in Inghilterra, suoltre 43 milioni di persone. E in questo studio si dimostra con molta chiarezza che il Covid ha una elevata possibilità di dare miocarditi dal 10 al 15% e questo è stato segnalato anche in Italia nel corso della prima ondata. Con quale frequenza l'infarto si manifesta con aritmia fatale, quindi con morte improvvisa? Circa nel 10% della popolazione. Cambia in base all'età e ovviamente l'incidenza è molto più alta, la causa è molto più alta nelle persone giovani piuttosto che nelle persone anziane dove seppur l'incidenza in generale nelle persone giovani è più bassa però la percentuale di malattia coronarica, la causa quindi della morte improvvisa, è molto più frequente tra i 20 e i 45 anni. C'è stato un incremento significativo di aritmie sia sopraventricolari come tachicardiatriali e fibrillazioni atriali sia ventricolari molto significativo. Vediamo spesso giovani e giovani atleti con aumento dell'estrasistoria ventricolare soprattutto in giovani che praticavano sport con pregressa presenza di aritmie estrasistorie ventricolari dopo il covid c'è un significativo aumento. Purtroppo abbiamo registrato e curato anche la presenza di tachicardie ventricolari che sono aritmie ventricolari maligne e pericolose subito dopo il covid che poi hanno provocato anche arresti cardiaci estraspedalieri anche sul campo di gara. Torniamo a parlare della tragedia che ha colpito Fossombroni che piange la scomparsa del 18enne Filippo Giovannelli studente dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Di ritorno da una festa la scorsa notte ha perso il controllo del proprio scooter ed è stato scaraventato contro un muro. In un primo tempo sembrava lucido e ha parlato con i soccorritori ma poco dopo si è aggravato ed è deceduto forse a causa di emorragia interna. La ragazza che era con lui sul sellino posteriore ha riportato per fortuna solo lievi traumi. La precisa dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione. Si può parlare apertamente di gravissima emergenza anche nelle Marche per quello che riguarda il dissesto idrogeologico ed il rischio di erosione marina. Dopo la recente tragedia dell'alluvione si moltiplicano gli allarmi e le segnalazioni ma sullo sfondo resta l'irrisolto e qualcuno teme l'irrisolvibile. Problema dei cambiamenti climatici. Vediamo il servizio. Dissesto idrogeologico, erosione marina e rischio idraulico sono termini divenuti di drammatica attualità nella nostra regione con il ripetersi di episodi anche gravissimi come l'alluvione del 15 settembre di allarmi e allerte continue. Dal confine della regione giunge l'ennesima segnalazione questa volta riguarda il torrente Tavollo che fa da confine fra Marche e Romagna. La sua pericolosità è stata più volte segnalata come conferma al microfono di Camilla Cataldo il sindaco di Gabice, Domenico Pascuzzi. Sono importanti e sono richiestissimi questi tipi di interventi di manutenzione straordinari aggiungo perché poi siamo in una situazione questa, il fiume Tavollo che è di competenza di due regioni quindi divide a metà tra l'Emilia Romagna e le Marche e abbiamo due legislazioni diverse quindi quello che sollecita la regione Marche così come ha fatto la regione Emilia Romagna. Dai fiumi al mare, Marina di Montemarciano, Porto Novo e Lungomare Nord di Porto Recanati sono le zone a maggior rischio e cresce la preoccupazione per le mareggiate invernali con una spiaggia ovunque ridotta a poco più di un fazzoletto e diversi stabilimenti a forte rischio. Io ho scritto anche una lettera a tutti gli organi competenti, ai giornali pure, l'ho scritta. persino il prefetto mi sono rivolta alla regione, alla provincia, alla capitaneria e ai vari giornali a chi devo scrivere più. Ma gli interventi difensivi invocati da più parti potrebbero liberarsi inutili secondo il professor Rodolfo Coccioni, geologo ed uno dei maggiori esperti marchigiani. Se i dati scientifici inequivocabili ci dicono che il livello del mare si alza per ovviamente ragioni climatiche di 3 mm all'anno c'è poco da fare, la situazione è questa. Insomma, mentre a Shalmash e Ike i grandi della terra discutono, ma con la gravissima assenza di Cina, India e Russia, la sensazione che il tempo sia scaduto si fa ogni giorno più forte. Come stiamo facendo abbiamo un ospite che andiamo a presentarvi e a coinvolgere. Saluto Maurizio Verdenelli, collega giornalista che proprio in questi giorni festeggia i 55 anni, moltissimi di carta stampata e anche un po' in televisione. Maurizio ti coinvolgo per chiederti cosa mi dici dei servizi che abbiamo visto fino a questo momento e anche di questo nostro nuovo telegiornale. Mi sembra una ripartenza eccezionalmente e veramente professionale. E che cosa ci puoi dire invece della tua professione e dei tuoi 55 anni? Quante ore ho? Forse qualche giorno? Allora se non ho tutte queste ore mi limiterò all'essenziale. Ho lavorato con molti giornali, dal Corriere della Sera al Messaggero, dove sono stato anche corrispondente dalle Marche e inviato speciale per gli eventi migliori, maggiori dell'Italia centrale. Così diceva il mio mandato, il mio incarico. Cosa ricordo di quei periodi? Tanti bei scoppa, a cominciare qui nelle Marche, del famoso caso de Rothschild. Ma vorrei ricordare soprattutto adesso che siamo in una situazione che può essere definita vicina a quegli eventi che accaddero 40 anni fa, all'inizio, a metà del 1980, quando in prima pagina sparai una notizia che sarebbe diventata pop, popolare, amata da tutti, perché quando c'è l'amore che ritorna dopo 40 anni, allora tutti si innamorano dell'idea dell'amore e tutti si innamorano della bella storia di Primo Grasselli, di Lida Titorenco, che poi era tra l'altro la cugina della signora Titorenco, Corbaciova, quindi la moglie di Corbaciova, che si ritrovarono, questi due ragazzi che avevano ormai 70 anni, si ritrovarono insieme e sposati, lui per la terza volta, a Sant'Angelo in puntata. Allora il tempo degli scop era quello, il tempo delle notizie forse anche più lente. Poi torneremo con il nostro ospite, ora andiamo avanti perché parliamo dell'Anello Ferroviario delle Marche, in particolare il completamento della Fabriano Pergola Urbino in connessione con Fano, con la linea Civitanova Fabriano e con l'Ascoli Porto d'Ascoli Civitanova, le infrastrutture viarie della Valpotenza, a cominciare al casello sulla 14, la Ferrovia Ascoli Rieti, cosiddetta dei due mari, questi temi sul tavolo del confronto tra Camera di Commercio delle Marche, assessorato alle infrastrutture della Regione Marche, all'indomani di uno studio di Union Trasporti sull'impatto economico, sociale e ambientale delle tre infrastrutture selezionate nelle Marche, al centro appunto di questo incontro organizzato proprio questa mattina. Ed ora ancora un deciso colpo inferto dalla Guardia di Finanza delle Marche, soliti furbetti del reddito di cittadinanza, in una serie di controlli rilevate numerose irregolarità e fruitori che non ne avevano diritto. Sentiamo. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scovato 39 soggetti risultati illecitamente beneficiari del reddito di cittadinanza. La frode accertata è stata quantificata in 197.000 euro, a cui si aggiungono 260.000 euro di ulteriori contributi per i quali è stata chiesta l'immediata interruzione dell'erogazione, scongiurando così l'aggravarsi del danno per il bilancio pubblico. Il reddito di cittadinanza, ricordano le fiamme gialle, può essere richiesto solo con la sussistenza dei requisiti necessari del richiedente, sia di carattere economico che relativi alla cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché di non essere stato sottoposto ad alcune misure cautelari. Proprio la mancanza di alcuni di questi requisiti è stata contestata a soggetti che hanno illecitamente richiesto e ottenuto il sussidio economico statale. Irregolarità sono state riscontrate nel 100% dei casi controllati e il 73% delle stesse sono state contestate a soggetti stranieri, prevalentemente romene e nigeriani. che hanno falsamente dichiarato nella domanda presentata di essere residenti in Italia da più di 10 anni e in modo continuativo negli ultimi due. Ed ora spazio a voi, anzi a TVI RS. La state conoscendo è la sigla che apre lo spazio dedicato ai telespettatori, una zona del nostro telegiornale che si avvale dei vostri filmati fatti con il cellulare per segnalare problemi o far vedere belle immagini con esperti che rispondono ai vostri quesiti. E anche stasera ne sentiremo uno. Uno spazio appunto a vostra disposizione per dialogare con noi, inviarci video o domande tramite WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 327 957 3655. E allora via ad un interessante io reporter. Vediamo alcune immagini eloquenti della zona di Via Zorli a Macerata, un'area semicentrale della città. Colore, e sono molti che si trovano a transitare in Via Maffè a Pantaleoni, sono costretti ad assistere in questi giorni al triste spettacolo di una sorta di discarica a cielo aperto, collocata tra l'altro tra palazzi densamente abitati nei quali vivono anche molti immigrati. Una situazione che non può e non deve passare inosservata. Il nostro telespettatore Andrea ci ha mandato questo filmato sollecitato anche da diversi residenti di uno dei quartieri più popolari della città. E poi magari andiamo a capire che cosa sta succedendo con chi di dovere. La seconda rubrica della giornata, come sempre il lunedì, è dedicato ad Ascoltami in collaborazione con l'Ordine regionale degli psicologi. Tramite il nostro numero di WhatsApp potete porre quesiti, dubbi, preoccupazioni e vi risponderemo. Oggi risponda ad un vostro quesito la psicoterapeuta Katia Marilungo, presidente dell'Ordine regionale degli psicologi. La signora Giulia di Ascoli mi chiede Il caso della signora Giulia di Ascoli in realtà non rientra, per come lei ce lo descrive, in un caso di depressione postpartum. Perché? Perché ci dice che è diventata mamma da qualche giorno. E noi psicologi, chi si occupa anche di psicologia per i Natale, sa bene che nei giorni successivi al parto può avvenire un fenomeno chiamato baby blues o maternity blues. In cosa consiste? È un fenomeno molto frequente che colpisce il 50% all'80% di tutte le donne. Ed è una sensazione, un sintomo transitorio dovuto in parte anche a un disturbo emotivo dovuto al calo ormonale, dovuto allo stress dal parto, dovuto anche allo stress del travaglio. E anche al grande evento che è quello di diventare mamma, quindi accogliere un figlio. Questa è una condizione appunto che colpisce moltissime donne e rientra verosimilmente in una settimana, massimo 10 giorni. Ecco, in questo caso quindi la signora Giulia può stare tranquilla, deve giustamente, come lei stesso ci dice, non vorrei crearmi altri stress. È giusto che non si crei altri stress e che accetti anche questa sua condizione di stress transitorio, di disturbo un po' emotivo transitorio. Si parla invece di depressione post-partum e questo colpisce una percentuale sicuramente più bassa delle donne, anche se comunque colpisce una donna su 5. E si parla di depressione post-partum quando questa sintomatologia diventa più importante e soprattutto più prolungata nel tempo. Quindi non solo la prima settimana, i primi 10 giorni dopo il parto, ma anche per un periodo più prolungato che può essere anche un mese o più. Ecco, questa condizione invece non è affatto da sottovalutare, ma è una condizione che deve essere attenzionata da tutta la famiglia e portata anche un po' alla luce e quindi invitare la mamma affetta appunto da una depressione post-partum a rivolgersi a professionisti competenti, quindi a psicologi, psicologi per i natali, psicologi presenti nei reparti di osteoterapia e ginecologia o anche liberi professionisti. Perché in questo caso poi una depressione post-partum non diagnosticata e non curata può avere risvolti anche psicopatologici nel futuro, sia per la mamma, sia per la relazione che si sta ora con il figlio. Ti riconvolgo, Maurizio Verdenelli, che cosa ne pensi di questo spazio che abbiamo voluto chiamare TVIRS? È una formula innovativa, però da me sempre seguita sul piano dei cartaci, dei giornali, quella di far partecipare il più possibile coloro che sono i nostri fruitori, gli utenti. E no, voi con le lettere magari e noi invece chiediamo dei video, perché è inevitabile. Però non era mai successo un fatto così, devo dire, TVIRS bisogna dare il merito di questa innovazione, perché è un'apertura totale e da seguire senz'altro. E invece un'altra battuta su questa storia di questo amore che ci hai lasciato in sospeso? Questo amore era molto, anche questo, suggestivo, perché dopo essersi amati in un campo di lavoro nazista, Lida e Primo Grasselli, tra l'altro procreando un bambino che di lì a poco sarebbe morto, si erano poi lasciati dopo la fine della guerra. Ma nessuno dei due aveva dimenticato l'altro. Primo aveva avuto, è vero, due mogli, ma gli erano tutte morte. E quindi aveva ricordato Lida, che era in un paesino, in un villaggio ucraino, a 300 chilometri da Kiev. Eravamo negli anni Ottanta e quindi Kiev era russa. Era russa. È la storia che ritorna, un caso da ripercorrere e da conoscere. Tant'è vero che al loro matrimonio i testimoni erano i diplomatici russi. E allora la storia... E chi cucì l'abito da sposo di Lida? La grande Micole, la grande Sarta, che poi abbiamo visto in televisione, nel ricordo della famiglia. Venne a cucire l'abito da sposa nascosta in una casa e riuscimmo a fotografarla. E allora anche quello fa parte di uno scoop di un giornalista che appunto festeggia i 55 anni di attività. Ora invece vi proponiamo una classifica che come sempre è destinata a far discutere e a creare un po' di polemica, quella della qualità della vita. Lino Balestra. Trento è la provincia dove si vive meglio, mentre Crotone è quella dove si sta peggio, in mezzo tutte le altre 107. Sul podio ci sono anche Bologna e la Sempiterna Bolzano, che detiene il record di permanenza nelle posizioni di testa della classifica, a tenere compagnia a Crotone, sul fondo, Caltanissetta e Siracusa. La ventiquattresima edizione del rapporto sulla qualità della vita, realizzato da Italia Oggi con l'Università, la Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, mette in vetrina un'Italia sempre più marcatamente spaccata a metà. Centro-nord parte alta della classifica, centro-sud e isole parte bassa e la questione meridionale quindi sembra non avere fine. Anche se in generale la qualità della vita risulta buona in 64 province su 107, in miglioramento rispetto alla media dello scorso anno, nessuna provincia meridionale o insulare è nel gruppo delle 32 di testa. Nove i comparti presi in esame dallo studio, affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, rendito e ricchezza, sistema salute, sicurezza sociale, tempo libero e turismo. Per quanto opinabile, il rapporto di Italia Oggi mostra notizie contrastanti per le marche. Ancona, prima delle marchigiane, si piazza al diciottesimo posto, era trentanovesima. Pese Rubino scala 20 posizioni e sale al trentesimo, era invece al cinquantaseiesimo. Macerata è quarantaduesima con un grosso scivolone, era ventiduesima. Fermo resta al quarantaquattresimo posto come ultima rilevazione. Mentre Ascoli perde venticinque posizioni, ora è a metà classifica, cinquantaduesima, mentre nel 2021 era ventisettesima. E' ancora un'Italia a due velocità, quindi. Lo studio, infine, evidenzia come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia e ha invece affossato ulteriormente diverse aree meridionali e insulari. Quanti ne hai viste, Maurizio Verdenelli, di queste classifiche, sulle province, sulla qualità della vita? Dove Macerata perde sempre un po', qualche gradino, devo dire, lo perde sempre negli ultimi anni. Ma sono molto opinabili questi dati, però è giusto anche fare una fotografia. Donne, donne sempre al centro della cronaca. Non solo la grande Nicole Fontana alla corte di Lida e di Primo, ma anche Pippo Baudo, la diretta del loro matrimonio su Domenica Inn. Un matrimonio che durò due anni. Poi lei fu presa dalla nostalgia, uso un titolo di un film famoso di Tardoschi, dei nipoti e del suo paesino. Una volta che ritornò a Kiev non ritornò più nelle Marche e lui se ne andò desolato a Roma, morì di lì a poco. Lei continuò a mandare dei biglietti agli amici di Sant'Angelo e Pontano, da molti anni non li manda più, evidentemente anche lei. E ricordo anche l'ex baronessa di Rothschild, un mistero ancora insoluto. Di cui ti sei occupato più di una volta. Foglio a scoprire il fatto che era una baronessa che era stata legata a Evelyn de Rothschild. Non era solo la moglie, in quel momento, di Stephen May, che era il direttore dei grandi magazzini Arroz, ma era qualcosa di più. Tanto è vero che per due giorni si pensò a un sequestro di persone. Allora, ci sono tante cose di cui parlare con Maurizio Verdenelli, che ringraziamo per questi suoi interventi su un giornalismo che va sicuramente riscoperto. Ora siamo al consueto appuntamento con la cronaca minore della regione, sintetizzata in un minuto dal responsabile del sito. Abbiamo avuto con la moglie a fare una passeggiata lungo la pista ciclopedonale tra Castelbellino e Pantiere, zona frequentatissima da ciclisti e corridori, quando improvvisamente è stato aggredito da due cani. Paura per un podista di 60 anni, raggiunto da un importante morso alla coscia per il quale ha perso molto sangue. È stata la moglie dell'uomo che lo seguiva leggermente più indietro a lanciare subito l'allarme, con la croce rossa di Castelplani arrivata sul posto. È stato necessario anche l'intervento di Icaro che ha trasportato il podista all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Risveglio tragico in via Cellini, al paese alto di San Benedetto del Tronto. Una donna di 63 anni è stata trovata deceduta in casa, stesa sul pavimento e già morta all'arrivo dei soccorsi. La donna era solita farsi una passeggiata ogni mattina, più o meno alla stessa ora, insieme al cane. Questa mattina alcuni abitue della zona non l'hanno vista e si sono preoccupati, soprattutto dopo che la stessa non rispondeva al telefono e tanto meno al citofono. Ubriaco sotto il ponte degli Archi ad Ancona si dà alla fuga all'arrivo dei carabinieri, ma viene ripreso dopo un breve inseguimento. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Marconi ed ha visto come protagonista dell'intera vicenda un 27enne. Dopo una breve trattativa, nonostante lo stato di agitazione, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette. Consueta pagina sportiva che si apre con la nostra sigla. Buonasera, buonasera anche da parte mia. Pagina sportiva che apriamo subito con il calcio. Allora, Peppino Amadio è il nuovo allenatore della maceratese, prende il posto dell'esonerato Sauro Trillini per il tecnico ex Azzurra Colli, l'esordio Domenica Durbino, nella gara tra l'altro che trasmetteremo in diretta dalle 14.30. E rimanendo in questa categoria è esonerato anche il tecnico del Fabriano Cerreto, Farsi e Divorzio, tra Titone e la San Giustese. E c'era molta attesa nel basket per il Superclassico di ieri, Pesaro-Milano, la resistenza della VL è durata due quarti, poi la maggiore profondità del roster a disposizione di Ettore Messina ha fatto la differenza, vediamo. La difesa dell'Olimpia ha ingabbiato il miglior attacco del campionato. Domenica sera Milano è passata a Pesaro, 71-85 il risultato finale, con una prova consistente e un crescendo rossiniano. Una giornata nel nome di Marco Piccoli, toccante l'omaggio allo storico capo ultra bianco-rosso, ricordato anche da molte altre curve in Serie A, è mancata solo la vittoria. C'erano 5.222 spettatori, ennesimo record, e ci si è divertiti per almeno due quarti a giocare testa a testa con i campioni d'Italia. La grande classica ha preso la strada meneghina nella ripresa, quando l'atletismo e la fisicità degli ospiti hanno prevalso. La Cune è rimbalzo per la Carpegna Prosciutto, 45-24 il computo pro armani. Per l'ultimo arrivato, Gudmundson, un discreto impatto di energia. I migliori realizzatori di serata per i marchigiani sono stati Abdurrahman e Charlam Populos, autore di 14 punti a testa. Pesaro conta di recuperare Capitan Delfino per la trasferta del 20 novembre a Brindisi e intanto festeggia un fiocco azzurro. Davide Moretti è stato convocato in nazionale e venerdì sarà di scena la vitrifiguarena di Pesaro nel match contro la Spagna. La Serie A osserva un turno di riposo, la Carpegna Prosciutto lo affronta da settima in classifica, con tre vittorie e altrettante sconfitte. Coach, Jasmine Repesa, sottolinea Se qualcuno ci fosse offerto avere tre vittorie e tre sconfinte avremmo preso senza pensare troppo. Onestamente per me, come abbiamo meritato, vincere partite tirate contro Venezia e contro Brescia, nello stesso tempo ho detto subito dopo la partita con pieno merito abbiamo perso la partita contro Napoli. E torniamo ad occuparci di calcio, c'è già grande attesa ad Ascoli per l'anticipo del campionato di Serie B venerdì sera alle 20.30 quando al Del Duca sarà di scena la capolista Frosinone. Della squadra bianconera parleremo diffusamente stasera dalle 21 nel corso di Picchio Club di cui vediamo qualche anticipazione. Ciao, benvenuti qui dagli studi di Ascoli, Picchio Club subito dopo il telegiornale con Massimiliano Nepi, nostro partner di Picchio Club. Benvenuto Massimiliano, a breve insieme a Piero Travaglini dei veterani Ascoli parleremo del turno numero 12 nel campionato in Serie B dove l'Ascoli ha conquistato un punto alla 93esimo al Regamonte di Brescia grazie al terzo gol stagionale del brasiliano Eric Botteghini. Parleremo anche di lui, parleremo di Dionisi perché poi sarà il capitano dell'Ascoli che affronterà da ex, non è la prima volta ovviamente, la sua ex squadra, il Frosinone, che comanda la classifica dopo i Cinglopole, cinque vittorie consecutive per la squadra di Fabio Grosso, prossimo avversario appunto dei bianconeri venerdì alle ore 20 e 30. Parleremo con le immagini, le interviste con i protagonisti, commento dei tifosi, parleremo di questo e di altro come di consueto tutti lunedì, subito dopo il TG Picchio Club qui su TVRS, a te la linea. Una notizia di volle prima di chiudere, vi ricordo che mercoledì alle 20 e 30 si disputerà il recupero del campionato di Serie 3 tra Mestor Tunit, Macerate e Sandona di Piava la gara rinviata il 23 ottobre scorso per il Covid, per lo sport è tutto. A te Manolite. Siamo in conclusione, vi ricordiamo che gli aggiornamenti in tempo reale li potete sempre trovare per cronaca, attualità e sport sul nostro sito www.utvrs.it vedete ora l'home page con foto, notizie, cronaca, attualità e spettacoli sempre aggiornati. È davvero tutto per questa edizione vi ricordo l'appuntamento di domani alle 13 e 15 ora la sigla e le previsioni del tempo Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà il lento avvicinamento di una perturbazione atlantica questa che vediamo nell'immagine alle nostre regioni in particolare a quelle di nord-ovest quindi giornata ancora discreta ma con nubi in aumento sulla parte nord-occidentale lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità ecco queste prime nubi che arrivano sull'Italia di nord-ovest attraversano in parte anche il nord-est ma la giornata sarà ancora più che discreta in effetti anche come precipitazioni per il momento poco da segnalare prime goccione di pioggia in giornata sulla Liguria centrale poi probabilmente verso sera qualche goccia ma si parla proprio di piovigile andrà a interessare anche parte della Lombardia quindi in definitiva giornata nel complesso ancora bella da nord a sud però con qualche nuvole in più a nord a specie diciamo al nord-ovest prime gocce di pioggia in Liguria qualche gocciolina in serata anche in Lombardia come temperature e valori diurni intorno ai 20-22 gradi al centro-sud qualcosina in meno a nord e al primo mattino c'è sì sempre bisogno di coprirsi un po' bene ma temperature minime in lieve graduale rialzo per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi nei prossimi giorni consultate l'app gratuita di Trebi Meteo grazie a tutti